da campo prove per descrivere che cosa stiamo vedendo vogliamo fare, apprezzare ai nostri amici il vantaggio della trasmissione idrostatica che viene dimostrata da questo tutti i partner e noi abbiamo un braccio per il scopo preso l'innovazione per il rinnovazione 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 superiore al 60% potrebbe anche sapere in realtà il limite è dato dalla forza di gravità